Approvata a maggioranza la proposta legislativa ed iniziativa consigliare che prevede contributi in legge per gli istituti che tutelano la memoria e i valori di antifascismo e resistenza. Minori stranieri non accompagnati in Toscana sono 46 nuovi tutori volontari, a formarli la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. Presentato il lancio della campagna lo sport non è una gara, hashtag la mia vittoria, che dà spazio all'idea di sport dei ragazzi e delle ragazze. Antifascismo, contributi in legge per gli istituti Sia maggioranza con 26 voti favorevoli alla proposta di legge che modifica la legge regionale numero 38 del 2002 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli. L'atto che ha come primo firmatario il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli, nell'anno in cui si celebra l'ottantesimo anniversario della resistenza e liberazione in Toscana, vuol riconoscere stabilità e finanziamenti agli istituti che si curano di promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della resistenza. A decorrere dal 2025, il contributo annuale per questi soggetti è pari a 250.000, 90.000, 20.000 e 210.000 euro, rispettivamente per l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, gli istituti storici per la resistenza a carattere provinciale, la Fondazione Museo e della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato e la Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste della Resistenza. La legge non cambia i soggetti titolari già riconosciuti e non modifica lo stanziamento dei finanziamenti, ma li fissa in legge in modo che possano essere programmabili da parte degli enti le loro spese e le loro attività. In Toscana gli istituti storici della resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Ecco perché abbiamo presentato questa proposta di legge, cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse sono state messe a disposizione per tre anni e noi abbiamo pensato invece che debbano essere strutturate proprio per favorire e consentire una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. di questa legge che noi abbiamo promosso è stata sottoscritta anche dai 5 Stelle e anche da Italia Viva. Ho visto che di fatto poi nessuno ha votato contro, anche se ci sono state le non partecipazioni al voto e delle astensioni da parte della minoranza. Quindi credo una bella pagina che stamattina è stata scritta anche con l'approvazione di un ordine del giorno, in questo caso presentato da una parte della minoranza che richiede un impegno per valutare la possibilità di dotare l'istituto storico regionale di una sede più idonea di quella che ha, quindi una bella pagina della politica molto coerente con la nostra storia e molto coerente con i valori che noi vogliamo anche proiettare nel futuro, soprattutto alle nuove generazioni. Questo è un impegno, un impegno morale che io personalmente per primo, va detta la verità, ho assunto, poi mi fa piacere che anche i colleghi del Partito Democratico lo abbiano assunto, abbiano firmato la legge, io ho firmato il loro testo, perché era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'istituto della resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della regione toscana, passano gli anni, sono 80 anni e si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa, si possa affevolire. Serve ricordare, serve sviluppare una conoscenza, serve anche vedere l'evoluzione di quello che è successo negli anni successivi, serve attualizzare quell'esperienza, quindi servono delle risorse certe, costanti, che oggi il Consiglio regionale, va detto a larga maggioranza, ha poi sostenuto e votato e questa è una notizia bella per la Toscana e per i valori della resistenza. Voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia è stato espresso da Vittorio Fantozzi. Ma senza discutere minimamente il merito e il valore storico della resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vannino Chiti questo luglio che incentivava Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'istituto storico della resistenza. Noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha illustrato un ordine del giorno approvato dall'Aula a maggioranza con il voto contrario di Fratelli d'Italia. Il voto d'astenzione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della resistenza, in particolare l'istituto storico della resistenza toscano e dell'età contemporanea, perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della resistenza e dell'età contemporanea, in particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione perché questi testi, questi volumi importantissimi sono a rischio e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza magari anti incendio, anti alluvione o metterli in condizioni di poter essere manutenuti adeguatamente. Margine dei lavori d'aula è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per commentare l'approvazione della legge. La Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto facendolo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del presidente Mattarella in uno dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana e lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570 mila euro il lavoro degli istituti storici della resistenza, come c'è nata quest'idea di finanziare di più. È in linea con tutto questo lavoro ma le parole del presidente Mattarella ci hanno guidato. Il presidente Mattarella ha detto che non c'è futuro senza memoria e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici al compito nostro è quello di mantenere alto perché il simbolo della nostra regione è il Pegasolato. In quel Pegasolato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Allora il nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. Il segno è che la strada è quella giusta. Minori stranieri, nuovi tutori volontari. Sono 46 nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato allo specifico corso di formazione organizzato dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Saranno a titolo volontario e gratuito i rappresentanti legali e al contempo figure di riferimento di bambini e ragazzi particolarmente vulnerabili in quanto minorenni, soli e stranieri. I tutori che provengono da tutte le province della Toscana hanno ricevuto a Palazzo Bastoggi i relativi attestati dalla stessa Garante Camilla Bianchi. È con piacere che oggi la nostra regione saluta i nuovi tutori e le nuove tutrici volontarie di minorenni e stranieri non accompagnati, formati da questo Garante con un apposito corso di formazione ed una relativa selezione finale in ottemperanza alla disposizione numero 47 del 2017 nazionale in materia di protezione di minorenni e stranieri non accompagnati. I tutori e le tutrici volontarie di minori e stranieri non accompagnati sono cittadine e cittadini che a titolo volontario e gratuito presteranno il loro servizio nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione delle persone di minorità straniera in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento per le necessità e i bisogni di tali persone che come sappiamo sono persone particolarmente vulnerabili, sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili perché minorenni, perché soli e perché stranieri. Ecco quindi che il ruolo di tutrice e tutore volontario rappresenta un significativo esempio di cittadinanza attiva e dà il segno di un impegno sociale che rende le nostre comunità più responsabili, più civili ed inclusive. Dà valore altresì il senso importante di quell'alleanza tra istituzioni e società civili che vivifica più che mai il vivere civile. I ragazzi hanno confermato la propria disponibilità a essere iscritti negli appositi elenchi dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, istituiti presso i tribunali per i minorenni di Firenze e di Genova. Ha partecipato alla cerimonia anche il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. La Toscana è una terra in grado di accogliere, di saper accompagnare e quindi io oggi sono qui per dire grazie a queste donne, a questi uomini che in maniera volontaria decidono di destinare parte del loro tempo per i minori stranieri non accompagnati. Chiudiamo gli occhi e pensiamo ad una bimba, ad un bimbo che arrivano nel nostro territorio, che arrivano in Italia. A volte c'è qualcuno che con la cultura dell'allontanare non li fa sentire a casa propria. Noi invece vorremmo che queste ragazze e questi ragazzi si sentissero parte di una comunità, potessero crescere aiutati e supportati da altri cittadini del nostro paese che li fanno sentire a casa. Questo è il bello, questa è la valenza. Io quindi quando mi è stato chiesto di essere qui ho detto subito sì perché la Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di accoglienza, la Toscana è una terra che non si volta dall'altra parte. La nostra festa della Toscana l'abbiamo dedicata a Don Lorenzo Milani e in quel I care, in quel prendersi cura, ci sta la nostra idea di Toscana. Da remoto è intervenuta Silvia Chiarantini, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, che ha sottolineato come in Toscana ci sia stato un incremento di arrivi dal Nord Africa, mentre sono diminuiti quelli dai paesi dell'Est, dall'Albania e dall'Africa subsariana. E rivolgendosi ai nuovi tutori ha spiegato come in base alla provenienza dei minori capiranno le loro aspirazioni e i loro bisogni. Dell'importante contributo dell'attività dei tutori, che mira l'integrazione, ha parlato anche la presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Daniela Verrina. SOS Sport, opportunità e società. Sono ragazzi e ragazze, giovani atleti e atleti, i cui volti campeggeranno su bus e tram fiorentini e sui social network per dare spazio alla loro idea di sport e vittoria. È stata presentata al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso la campagna lo sport non è una gara, hashtag la mia vittoria. L'iniziativa nasce dal progetto SOS Sport, opportunità e società per la promozione di uno sport accessibile senza stereotipi, promosso da Associazione Cocoa e Dead Work nell'ambito del progetto The Care, grazie al contributo di Action Aid, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea. Questo progetto ha l'obiettivo di interrogarci sul perché ancora tanti ragazzi e ragazze, ragazze, minori, bambini e bambine non fanno sport. Fra i tanti ostacoli che abbiamo trovato e di cui abbiamo discusso ci siamo concentrati su quello più sentito dai giovani che abbiamo coinvolto che è il punto di vista degli adulti, su che cos'è lo sport, su cosa li motiva a fare sport. Quello che ci è tornato sono due parole chiave che sono benessere e relazione. Spesso gli adulti pensano che il punto sia la vittoria, vincere la medaglia, vincere la gara, diventare qualcuno un calciatore e invece quello che ci hanno raccontato ascoltando il loro punto di vista è che fare sport vuol dire trovare un gruppo di amici, vuol dire stare bene col proprio corpo, vuol dire sentirsi a proprio agio, vuol dire tante cose sulle quali non ci soffermiamo troppo spesso. Allora questa campagna vuole dare proprio voce e spazio a questo punto di vista. vedremo i loro volti, le loro voci e i loro pensieri su tram, sugli autobus, sui social network, li ascolteremo sulla radio. Ora sta un po' a noi adulti cogliere il loro punto di vista e fargli davvero spazio nel mondo dello sport. Divertirsi, avere persone di cui fidarsi, conoscere il proprio corpo e misurarsi con i propri limiti, impegnarsi a fare bene per sé e per gli altri. Sono alcune delle risposte alla domanda cosa è per te la vittoria rivolta a centinaia di adolescenti coinvolti nella campagna progetto SOS Sport Opportunità e Società. L'obiettivo è scardinare le dinamiche gestite spesso dagli adulti che limitano la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita sportiva, così preziosa per la loro crescita. Le risposte che hanno dato campeggeranno insieme ai loro volti sui bus e sui tram della città. Non è vittoria esclusivamente tagliare per più il traguardo, fare più punti, fare più gol, ma ognuno attraverso lo sport, nello sport può trovare il significato che cerca, può trovare la vittoria che agogna. E da questo punto di vista questo progetto è assolutamente esplicativo di questo concetto, perché il messaggio è molto forte. Chiunque può fare sport e chiunque può trovare nello sport la sua vittoria, che come dicevo prima non è necessariamente legata al primeggiare, ma può essere semplicemente, ovviamente lo metto tra virgolette, legato a un risultato personale da raggiungere, un'amicizia che ti cambia la vita, una serie di relazioni, una rete di relazioni che si trasformano in tanto altro da quello che può essere semplicemente il rapporto di campo, il rapporto in palestra. È un messaggio molto forte.